Via San Benedetto, la chiesa è titolare, eh, tutti San Benedetto, no, porta aperto. E allora ecco che l'ho accolta, non sapeva, il mio amico, ecco i miei amici, no, io che sto sempre con gli ultimi, poi mi vengono a trovare i primi. Guido Ceronetti, questo grande, mi aveva mandato la sua traduzione del Coret, studioso ed ebraico, questo geniaccio che è Guido Ceronetti, mi hanno tanti saluti sempre, e allora dico, Carla, ma l'hai mai letto questo testo, questo piccolo libro della Bibbia, Coret un tempo ecclesiasta e adesso i nuovi studi l'hanno chiamato Coret, poi vedremo, no, allora leggelo, meditalo, è quello che io cerco di dire a tutti quelli che incontro, lo do, è un consiglio, si legge veramente in una, in dieci minuti, un quarto d'ora, proprio questo testo che vi fa scoprire forse che chiunque di voi che siete appartenenti all'umanità avete un qualsiente di spiritualità che non detto in stretto religioso, un qualsiente poi che dove poi potete scoprire nel fondo del vostro cuore, per scoprire il fede e impegno nelle vicende umane, anzi, dove è io? E la voglio leggere io, guarda, me l'ha dato la Carla e quindi guarda, cominciamo, ecco, guarda qua, sai quante vite ha salvato, a quante ho dato, perché dopo qualche mese è tornata e era ridata la Carla e in più è uscito uno spettacolo teatrale, quello devo dirlo, dice, oh come sono contento, potrò dire l'avere ispirato, no, no, mi fa, no, sei attore anche tu nel teatro, no, guarda, mi dispiace e adesso sono coinvolto da più di trenta volte, sentite qui il coeletto, tutto ha sotto il cielo una sua ora, un tempo suo, il tempo di nascere, il tempo di morire, il tempo di piantare, il tempo di spiantare, il tempo di uccidere, il tempo di curare, il tempo di demolire, il tempo di costruire, il tempo delle lacrime, il tempo delle risa, il tempo dei gemiti e il tempo dei palli, il tempo delle pietre scagliate, il tempo delle pietre raccolte, il tempo delle braccia abbracciate e il tempo delle braccia lontane, il tempo del cercarsi, il tempo del lasciarsi, il tempo di tenere, il tempo di gettare, il tempo di lascerare, ma il tempo di ricucire, il tempo di tacere, ma il tempo di parlare, il tempo di amare, il tempo di odiare, il tempo della guerra, il tempo della pace. Sì, ma dalle cose che fai, cosa ricaverai? Vedo i figli dell'uomo impegnati da Dio in faccende in cui restano impastoiati. Bello è l'avvicendarsi di tutto quel che Dio fa, nei loro cuori Dio fa riflettere il mondo, rendendo introvabile all'uomo di tutto il fare di Dio, principio e fine. Sì, ma tutto va a un'unica fosta, dalla polvere viene tutto e nella polvere tutto riposa, chissà se va su l'anima dell'uomo e chissà se caschi giù l'anima della bestia nella terra. Io tutto il bene che vedo è questo, tiri l'uomo da quel che fa un piacere ma presto, altro non gli hai concesso, godimento futuro non gli hai svelato. Insomma, non è che sia proprio questo Coelet, l'uomo, il principio della serenità, ma chi è Coelet? E poi il racconto delle tenebre o il racconto della luce? Qualcuno veramente l'aveva anche definito agio. È questa propria contraddizione. Coelet, poi nella sua tradizione ancora recenti, è un pi ebreo, tra l'altro un testo riconosciuto, un testo canonico anche dagli ebrei, ma anche dalla Chiesa Cattolica. Siamo almeno a 250 anni avanti Cristo. Al termine della civiltà persiana, occupazione persiana, inizia con la greca, ellenistica. E' chiaro che, direi che mentre me lo dico mi sembra di vivere questi tempi, c'è di nuovo l'opulenza, c'è di nuovo la classe cosiddetta dirigente, c'è di nuovo un certo momento la legge a persona. Quindi direi che a un certo momento proprio è attualissimo questo testo proprio che è fortemente poetico. proprio dalla roba, ma è chiaro che c'è una poesia, una prosa ermetica, profondamente simbolica. È considerata addirittura un testo sapienziale. E coelet vuol dire il viandante, il peregrino, ma oratore. Cioè uno che va alle corti, ai palazzi di allora, va sulle piazze, va nelle case, e allora continua a gridare, ma vi state lasciando stritolare da questo ingranaggio, oggi direbbe capitalistico, populistico, leghistico, fascistico. Questo direbbe, e allora su, cercate nel vostro profondo, guardate che facciamo la famiglia umana è una, dirà. Guarda che partecipiamo tutti a questa, quindi chiunque ha la sua etica, il credente, non credente, cos'è questo relativismo? Si parla, dove è l'assoluto? Ecco la nostra chiesa sente, a un certo momento quasi si sostituisce e parla in nome di Dio, direi che è blasfemo al minimo. Ed ecco che il coelet dice, e lo scolterete adesso via via, porterà poi all'incontro di tutte le altre religioni, di tutte le altre rispetti. Cioè, è un'immanenza radicale dalla vita dell'uomo. In pratica lo vedrei quasi come veramente un'anticipazione del Cristo. Anche il Cristo, a un certo momento, un peregrino, è un viandante della strada, sceglie proprio sempre dalla parte degli ultimi, e si rivolge ai potenti, e non è altro, poi vi accorgerete, giusto in queste domande, in questi interrogativi, che lancia una rivoluzione di valore. Cioè lancia un fuoco. Cos'è questo fuoco? È l'amore. Ed è chiaro che, attenti, parlo dei giovani, lancia, provoca un altro fuoco, che è la persecuzione, che è l'oppressione. Quindi direi che a questo punto, procedendo, vi accorgerete che c'è proprio questa possibilità, questa potenzialità di uscire e soprattutto di sapere che ciascuno di noi corre due rischi. E va soprattutto il secondo, vorrei sottolineare, come appartenente alla famiglia umana. E il Coale ci richiama a continuazione. Ricordati, dice, stai attento, non voler correre questo rischio, cioè il rischio di non concedere a chiunque incontri sulla tua strada, il rischio di non concedere a chiunque incontri il diritto alla non sofferenza e il diritto al piacere. Allora, non sappiamo bene quando precisamente è stato scritto e da chi è stato scritto, sappiamo che Coales si può tradurre anche come colui che parla in assemblea. Noi qui abbiamo una bellissima assemblea, allora rileggiamo insieme a loro le parole di Coales e anche quella di altri mistici e testi sacri, perché noi dobbiamo continuare, anzi imparare a fare delle domande, sapendo che ci sarà sempre il silenzio delle risposte. Grazie a tutti.